Il Comitato vuole salutare la nuova direttrice. Quale saluto Giancarlo? Noi diamo il benvenuto alla nuova direttrice e le auguriamo buon lavoro. Sicuramente hai tante domande da fare. La prima è questa. All'inizio di quest'anno il Comitato Assistenza Malati di Tiguglio ha presentato una proposta per la riorganizzazione della rete ospedaliera del Tiguglio. Questa proposta consiste nell'istituzione di un ospedale generale a Lavagna e di due ospedali di distretto, una a Sessi Levante e l'altra a Rapallo. Le chiedo, direttore, lei ha letto questa proposta? Che orientamento ha? Che cosa intende fare? La seconda domanda è questa. Il nostro Comitato, pur non essendo a priori contrario al privato, ha sempre aiutato in vario modo la sanità pubblica nell'interesse dei pazienti. Io le chiedo quale orientamento lei avrà nei confronti della sanità privata. Terza domanda. Da noi le fughe dei pazienti della nostra ASL verso altre regioni stanno aumentando in un modo esponenziale. Si sta verificando un circolo vizioso per cui si assiste a un peggioramento delle cure. Le chiedo che cosa intende fare per frenare queste fughe. Le chiedo quali rischi corre il nostro territorio del Tiguglio. che cosa intende fare per sostenere la qualità delle cure del nostro territorio e che cosa intende fare per promuovere e sostenere le eccellenze della nostra ASL. La ringrazio e le auguro ancora buon lavoro.